Il 16 giugno il cantautore italo-inglese Jack Savoretti è tornato a conquistare Milano. Si è esibito sul bellissimo palco della Summer Arena di Yasago, portando in scena il suo Written in Scars Tour. Noi intanto siamo in fervente attesa dell'uscita prevista per l'autunno, al massimo all'inizio del 2017, del suo prossimo lavoro in studio. Ho scambiato quattro chiacchiere con lui prima del concerto, mi ha raccontato dei suoi punti di riferimento musicali e ovviamente del suo grandissimo amore per l'Italia che ormai sente come una seconda casa. Per voi Jack Savoretti. Il segreto della canzone perfetta non credo che sia una cosa che io sto cercando di svelare o rivelare, è più trovare la canzone malinconica mischiata, non lo so, che sia genuina, che non sembra un'imitazione di qualcos'altro, però sì, di sicuro sono ispirato da tantissimi maestri, se vogliamo dire, sia dalla parte mediterranea che dalla parte west coast californiana di Miami-Sasago. Fino a questo momento il motivo del nostro viaggio è stato uno, è di lavorare. Più di questo scopo qua non ci siamo mai fatti sogni troppi romantici. Il nostro scopo è poter fare quello che adoriamo fare, quello è di avere una scusa per andare su un palco ogni sera a cantare le canzoni che ci piace scrivere, che ci piace suonare, che ci piace fare. Quindi l'unico modo in cui io riesco a valutare il nostro successo o non successo è se stasera si lavora. Se stasera si lavora, oggi is a good day. Se domani non si lavora, ok, cosa possiamo fare che domani si lavora. Quindi il nostro scopo è sempre lì, non è che stiamo, abbiamo sempre tutti deciso, noi non vogliamo giocare la lotteria, speriamo che qualcuno ci scelga, speriamo che qualcuno ci capisca. Anche se nessuno ci capisce, non ci dà nessun fastidio, il punto è che basta che riusciamo ogni sera a fare questo come il nostro mestiere, più che lavoro. Io mi sento a casa come a terra in Italia, io mi sento a casa, ma la cosa più commovente, se vogliamo dire, è che la mia band si sente a casa in Italia. Si sente anche, si arrabbia anche, perché in Italia tante cose sono molto più difficili che in altri paesi. E c'è sempre questa frase che io odio, che tutti dicono, ah vabbè ma siamo in Italia. Questa è la cosa che io detesto sentire, perché non è una scusa secondo me, questa qua è l'Italia, l'Italia è il paese che ha inventato la musica, se vogliamo dire. Quindi quando uno butta questa scusa mi dà fastidio, è triste. Però posso dire che come accoglienza, come calore, come sentirsi proprio bene a casa, come l'Italia non esiste un paese che fa sentire non solo me da uno che ha l'Italia nel sangue, ma da un batterista danese, un chitarrista brasiliano, un pianista inglese, un bassista irlandese, un tour manager spagnolo e un fonico scozzese, tutti come arriviamo in Italia cambiano l'espressione, cambiano il modo di essere. Un disco in italiano non lo so, io dico sempre che è facilissimo scrivere una canzone del cazzo in italiano, non so se posso dire una parolaccia, però una canzone del cavolo in italiano è facile scrivere, una canzone giusta in italiano è difficilissima, ed è per questo proprio che ci rivolgiamo ancora a chi era proprio fenomenale a farlo, non chi lo faceva solo per farlo, o chi lo faceva per fama, o chi lo faceva per altri motivi, ma chi lo faceva perché era proprio un maestro del linguaggio. L'italiano è una lingua difficilissima da essere padroni abbastanza per usare in canzone, in una canzone, come faceva Dalla, Guccini, Gregori, Battisti, De Andrè, Mogol, come facevano loro. Adesso non è che non ci sono, perché ci sono, quando giriamo l'Italia è pieno di cantautori che ti lasciano a bocca aperta, ma l'industria non sembra avere tanto interesse, questa è una cosa tristissima, che l'industria italiana non stia dando spazio o palchi a forse la forma d'arte musicale in cui siamo più forti, che è il cantautore, ci stiamo buttando e cercare di fare imitazioni false, fatte male, di musica che viene da altre parti del mondo, non la musica italiana. La musica del cantautore, per me non c'è niente di più italiano di quello, è del genere di musica che in Italia danno meno spazio e questa è una cosa triste. Non so se Paul Simon è il motivo perché non sono diventato calciatore, perché è molto probabile che non sarei diventato comunque, la disciplina non è la mia forza, quindi per essere sportivi bisogna essere disciplinati. Sì, è stato Simon Garfunkel che mi ha proprio cambiato le idee su come passare le giornate, mettiamola così, poi passando le giornate diversamente, innamorandomi ogni cinque minuti, grazie alla colonna sonora di Simon Garfunkel, perché ti spinge un po' in quella direzione lì, finché giochi a pallone tutto il giorno non pensi tanto ad altro, come inizi ad ascoltare Simon Garfunkel, vedi le cose diversamente e ti innamori più facilmente. questo mi ha cambiato la vita e grazie a quella via lì mi sono buttato più su le melodie e la poesia invece delle corse e le spaticate di un 90 minuti.